Ciao a tutti i dreamers, io sono Francesca e bentornati sul canale e bentornati in un nuovissimo video su Adopt Me. Oggi siamo su Adopt Me per provare, indovinate un po', un nuovo trucco. Sto facendo tantissimi video al riguardo perché io sono alla ricerca del trucco perfetto. Il trucco davvero funzionante perché tutti quelli che ho provato fino adesso non hanno mai funzionato. Ma su TikTok recentemente ho visto un nuovo trucco. Un trucco per fare i soldi infiniti. Sono molto scettica al riguardo, però nel video funzionava e allora voglio provarci anche io. Se quindi siete curiosi di vedere questo video, se volete altri video del genere, mi raccomando lasciate un bel mi piace adesso, iscrivendovi anche al canale e tappando la campanella. Vi ricordo di andare a guardare il video di ieri perché lì ho detto i nomi dei vincitori per quanto riguarda il giveaway di Halloween. Fino adesso sono riuscita a dare un pet soltanto a una ragazza, a unicornina, che saluto, la quale ha avuto il Ghost Bunny, mentre tutti gli altri non mi ha risposto nessuno alla richiesta di amicizia e quindi non so bene che cosa fare. Poi, nel frattempo, cerco il mio albin pet, finalmente snowflake e full blue. Quindi adesso stiamo facendo crescere Shoto. E poi, vedete, ho sia un altro albino che altri pet, sempre riguardanti a, se non sbaglio, un'altra tigre, poi ho un altro pterodattilo e mi sembra un terzo sleuth perché ho incontrato un ragazzo, Mattias, che anche saluto, che me li ha regalati. Nonostante io abbia cercato in tutti i modi di ridargli questo pet, questi pet, lui non li ha voluti, anzi io glieli davo e lui me li ridava, io glieli davo e lui me li ridava. E quindi grazie tanto a Mattias per i regali, però non regalatemi pet perché mi fate sentire davvero in colpa perché magari voi, Mattias per esempio a forza voleva regalarmi a tutti i costi un dodo e se fate così mi fate sentire estremamente in colpa perché voi ci mettete tantissimo tempo per ottenere i pet, poi non è giusto che li regaliate a me o altri. La cosa che io voglio fare è la seguente, voglio andare ad acquistare un uovo, anche se non è utile, mettiamola così, anche se non ci serve per fare questo trick, però io voglio acquistare un altro uovo e compriamo un altro fossileg. Sentite, ho aperto così tanti fossileg che secondo me ho un altro t-rex o un altro... oddio, questa ragazza è arrivata, mi ha rapito e mi sta portando via! Grande sister! Allora, mi sta inseguendo, ho questa... Ok, ci avevo visto giusto. Ragazzi comunque guardate, molti mi dicono, French in realtà non vuoi giocare con noi, non sei felice di incontrarci, me l'hanno scritto in parecchi, in realtà non è assolutamente vero. Anzi, io mi diverso a giocare con voi, per esempio nella partita di ieri ho incontrato un bel po' di fan, vi faccio partire anche la clip adesso, l'ho registrata come prova, perché quando io dico le cose la maggior parte delle volte riesco a fornirvi anche una prova. Abbiamo giocato insieme e abbiamo fatto anche il trenino della felicità e ci siamo divertiti un sacco. No, ma lascia mi stare Aurora! Allora, questa cosa mi fa divertire un sacco quando mi rapiscono. Allora, ecco detto così è brutta, Aurora. Aurora, lasciami stare! Dite che questa volta mi farà dormire o mi farà... non la vedo più, ok? È andata via. Allora, vedete, io nelle richieste di amicizia ho per il momento Denise che l'ha accettata, però non sono riuscita ancora ad incontrarla e poi un ricordina a cui ho dato il pet. Fica! E portiamo il nostro fossil egg a bere. Bella la slitta. Ah! Allora, 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 io mi sono dimenticata che in realtà siamo qui perché dovevamo provare il trucco. Mi ero completamente dimenticata di questa cosa, stavo pensando semplicemente a far schiudere il nostro pet. Ma facciamo così. Facciamo tutte le missioni del pet. Quando mancherà l'ultima missione per farlo schiudere andremo a fare questo trick, a provare questo trick, questo trucco, questo trucco truccoso. Ma vi ho detto di lasciare il mi piace e di iscrivervi al canale? Se non ve l'ho detto ve lo dico adesso. Mi raccomando, se non l'avete già fatto lasciate un bel mi piace se volete altri video del genere e iscrivetevi al canale tappando la campanella così sarete sicuri di non perdere nessun video. Secondo me mi sono dimenticata un po' di dirvela questa cosa. Allora, per favore, io ti voglio bene ma lascia qui stare. Prendiamolo e scappiamo. Scappiamo, scappiamo, scappiamo. Scappiamo! Forse se facciamo così non ci prende. Ci sta ancora inseguendo. Andiamo, andiamo a fare il gioco. Ma sì, andiamo a fare il gioco così magari ci perde di vista. Ok, wow. Mamma, ma sto scassando, sto scassando. Vado così. Zombetto qui. Zombetto lì. Uhuh. E mi sono incastrata nella zucca trubazosa. Vai, vai, vai. Fortunatamente hanno aumentato le caramelle ottenibili. Di solito con questo gioco adesso ne ottengo almeno 300. Invece prima massimo uno riusciva ad ottenerne 100 e qualcosa. Mi sono persa. Aspettate, eccole qui. Non mi spingete, dai. Let's go to the playground. Ma scusami, ma te tu e te prima ci siamo visti. Prima c'eri anche tu sul treno della felicità. Come ti chiami? Aspetta, secondo me c'eri anche tu sul treno della felicità. Però non riesco a capire come ti chiami perché stiamo... Ti inseguirò. Ti inseguirò fino a quando non scoprirò il tuo nome. Ho perso, l'ho perso. Eccolo! Sto inseguendo una stalker. Sono una stalker, sto seguendo un... Ok, 208. Vabbè, perché mi sono distratta ad inseguire il ragazzo. Allora, come ti chiami? No, non sei tu. Ok. Pensavo che fosse la persona che stava nella partita di prima e invece non c'è. Allora, aspetta, le trasportiamoci a casa. Ho scoperto anche questa cosa della porta che l'ho acquistata, così non dobbiamo fare avanti e indietro all'infinito. Che ha aperto questa porta? Non mi piace tenere le porte aperte in casa mia. Allora, fossi leg, io. E poi andremo anche al playground. Allora, io qui ho un fantastico... Ho la mia agenda. La mia agenda progetti, puttamenti e idee. E in realtà mi dimentico spesso di usarla. Ho tantissimi buoni propositi. Io quando compro le agende, poi in realtà passano i giorni e mi dimentico. Quindi nelle pagine che ho usato, ho scritto davvero tantissimi, ma tantissimi trick e trucchi. Almeno, stiamo provando questo dei soldi infiniti, quindi lo cancelliamo perché lo sto facendo adesso. Allora, restano due missioni e poi... Restano quindi due missioni. Il nostro ovetto si iscriverà. Quindi facciamo una missione per l'ovetto. Vabbè, qui in realtà l'ovetto non c'è. Anche se l'ho lasciato momentaneamente a casa, perché sto provando a fare anche una cosa comunque. Trading free battle, voglio... Cioè, in realtà non sceglie un sacco, però... Va bene. Mi raccomando, consigliatemi le altre cose, così magari possiamo provarle insieme. O comunque qualche altro trucco da provare. Qualcuno che mi è stato consigliato da voi, già l'avevo provato. Mentre altri sono nuovi, quindi comunque noi proveremo altri. Comunque, se non accetterete le amicizie per una settimana, sorteggerò altre persone, poi invierò le amicizie a quelle altre persone. Allora, dato che non siamo più annoiati, beviamo anche un secondo. Perché l'acqua l'ho presa da casa, sì. Vediamo un po'. Vieni qui. Ok, no, non hai niente, nessuna missione. Ad Unicornina ho dato il suo Ghost Bunny. Poi ho incontrato Mattias, che mi ha dato il Cybersuit e il Petrodattilo. Quando me ne sono resa conto, io ho ridato il Cybersuit. Lui non l'ha presa bene e mi ha dato anche un Glutus Loot e un Albino Bat. Io allora gli ho regalato una Batbox, lui comunque ha deciso di no e mi ha dato comunque un altro Cybersuit. quindi è andata più o meno così. Dottore, dottore, salve, dottoressa, guarissimi, guarissimi. Ok. Tossi Leg, quindi che dici? Qualcosina lo vogliamo fare? Dove dobbiamo andare? Allora prendiamo il trenino della felicità. Il ciuff ciuff della felicità e andiamo al supermercato. Perché è lì che basta fatto il trucco. Posso imparare a destra o a sinistra il supermercato? È di là, ok. È a destra. Ciuff ciuff, soldini. Ciuff ciuff, ciuff, ciuff. Vieni, pick up. Andiamo. Stai venendo? Ok. Allora, in cosa consiste questo trucco? Finalmente dopo 17 minuti di registrazione e quindi 48 o quasi 8 minuti di video, credo, il nostro mentre lui fa... In cosa consiste questo trucco? Soldi infiniti. Prendi tanto cibo, cancellalo. Più 20 dollari. Quindi... Sto prendendo tutto il cibo senza chiudere la scheda. Tutto il cibo del... Proviamo questo cibo qui. No. Non ho ottenuto niente. Cioè, praticamente il trucco diceva seleziona tutto il cibo nello store, tutto tutto il cibo nello store e quando lo andrai a chiudere... Te ne rendi anche conto, no? Di quali cibi hai già selezionato perché non ti esce più la E. Comunque dice, quando lo andrai a chiudere ti darà più 20 dollari. Ora, io già l'ho fatto una volta e ho il vago sospetto che non abbia funzionato. Quindi, allora, ho aperto tutto. Sì, ho aperto tutto l'aprimile. Perfetto. E devo chiuderlo alla velocità della luce. Siete pronti? No. Non è funzionato. Credo che più di altro questo sia un trucco per, che dire, comprare velocemente il cibo perché guardate così e avete comprato tutto e non te lo mangiare anche. Il nostro fossil egg ha fame quindi, tanto per cambiare, ragazzi, questo trucco non è funzionante. Tanto per cambiare questo trucco non funziona. Ti porto a mangiare a scuola. Ti stavo portando nel pet shop ma recentemente il pet shop non mi ha dato tante soddisfazioni. Quindi, vabbè, allora, ragazzi, il trucco per avere i soldi infiniti non ha funzionato. Ci credevo. Devo ammetterlo, ci credevo. Ma adesso il nostro fossil egg si schiuderà e scopriamo un po' Cosa succede? T-rex o dodo? T-rex o dodo? T-rex o dodo? Ah! Mi sono fatto anche male. E siamo quindi a quota 4 1 2 3 No, siamo a quota 3. Pam, pam, pam. Va bene, ragazzi, io ci ho provato, io ci credevo in questo trucco. Io ci credo sempre nei trucchi che vedo su TikTok ma poi non funzionano mai. Ma io ci credo. Io ci credo davvero. E se ci credete anche voi e soprattutto se volete altri video lasciate un bel mi piace e fatemi sapere con un commento cosa ne pensate e per iscrivervi al canale tappate qui sul pallino e per vedere altri video presenti sul mio unale cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo domani alle 15 con un nuovissimo video. Ciao! 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 Ciao!